Lei ha delle doti di geografia per fare l'architetto. Eh, eh, t'ha nel senso... Eh, t'ha nel senso... Parano a mal di che era per urgenza. Eh, scassarmi qui. Eh, 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 eh. E va da posto, è un due. La su, con le labi. Iniziamo da lo stranuto. Eh, poi quelle là che traspirano, che ci sono i buchi e perché passa l'aria. Mi argomento una risposta semplice. Oh, io l'avevo detto, eh. Martina è un nita. Le piante bevono l'acqua. Non sa mai niente. Io direi... Le piante bevono l'acqua. La succhiano con le labi. Le vado a posto, è un due. Bene. Ok? Però non lo prenda in giro, signor Nebrondino. Potete uscire tutti... Prano Nebrondino. La succhiano con le labi. Eh, iniziamo da lo stranuto. Una domanda semplice. Perché l'acqua è così semplice? Gli argomento è una risposta semplice. Che co***o sto tipo. Ciao! 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 Grazie a tutti.